Nel 18 maggio riaprono bar e ristoranti, centri estetici, limitazioni nelle spiagge. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che prevede la riapertura in tutta Italia di attività economiche e produttive secondo le linee guida regionali che assicurano il contenimento del contagio ed in assenza delle quali valgono le linee delle guide nazionali. I presidenti di regione hanno lavorato un testo unitario sui protocolli. Riguardo le riaperture delle attività commerciali che il governo ha poi approvato secondo le nuove misure, gli ospiti degli hotel dovranno sempre indossare la mascherina mentre il personale dipendente è tenuto all'utilizzo in presenza dei clienti e in ogni circostanza in cui sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro per barbieri, parrucchieri ed estetisti, prenotazione obbligatoria e tempo limitato per il cliente all'interno dove valgono sempre le norme della sanificazione dei locali, dell'informazione ai clienti e dei dispositivi di distanziamento sociale e igienizzazione delle mani per evitare il contagio. Nei luoghi di ristorazione almeno un metro di distanza tra i clienti si trova a privilegiare l'accesso tramite prenotazioni nei locali. Misure stringenti anche in vista dell'estate, un metro di distanza tra le persone sulle spiagge anche quelle libere, stop ai giochi di gruppo per evitare assembramenti e contagi ok a racchettoni, surf, nuoto e windsurf mentre per gli sport di squadra come il beach volley e il beach soccer sono necessari rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti. Sulla modalità tra le regioni rimangono le limitazioni vigenti fino al 2 di maggio.